sia lodato gesù cristo prima di iniziare il video ti ricordo che ho preparato quest'area troverai qui sotto in descrizione il link dove poter accedere a tutti i miei libri visto che ci troviamo nella fine dei tempi ho preparato questi questi libri forse non ce ne saranno altri con le informazioni più importanti che ci servono per la salvezza e per essere poi strumenti di dio nei momenti difficili che stanno per arrivare quindi ti ricordo che qui sotto troverai il link per accedere a questi libri e quello più importante ovviamente questo qui ci clicchiamo e il manuale di sopravvivenza della fine dei tempi un abbraccio dio ti benedica e se ti va lascia un commento e un like al video sia lodato gesù cristo nel cuore immacolato di maria benvenuti in questo video oggi andiamo a parlare dell'odio di san michael arcangelo come prepararlo e dove acquistare gli oli essenziali del geranio e della lavanda intanto richiamiamo noi lo spirito santo a leggere meditare queste istruzioni e poi brevemente andremo a fare una ricerca online per capire dove acquistare questi oli in modo tale che ci possiamo organizzare tutti con avere con l'avere a disposizione queste piante medicinali attraverso queste informazioni celesti per combattere le nuove malattie della pelle e delle vie respiratorie che sono le porte olio di san michael arcangelo istruzioni a mezzo litro di olio di cocco quindi mezzo litro di olio di cocco si aggiungono 5 ml di olio essenziale di geranio e 5 ml di olio essenziale di lavanda 5 ml sono circa 100 gocce si mescola bene e si invasa in flaconi preferibilmente di colore scuro in alternativa si possono utilizzare contenitori di vetro chiari ma in questo caso la conservazione degli oli non sarà ottimale il prodotto ottenuto va conservato in un luogo fresco a riparo della luce diretta uso solo per uso topico sulla pelle si mette una quantità moderata sulla pelle da una a due gocce 3-4 volte al giorno secondo la gravità della versione ecco che il cielo ci ha spiegato che dobbiamo avere a disposizione mezzo litro di olio di cocco dove poi andremo ad aggiungere 100 gocce di olio essenziale di lavanda e 100 gocce di olio essenziale di geranio ciò di cui e noi abbiamo disposito ciò di cui noi avremo bisogno saranno questi flacconcini di colore scuro che poi dovremmo mettere in un luogo fresco per usarli nel momento opportuno ovviamente questione andranno usati per combattere l'infiammazione della pelle causata dalla dalla puntura di queste zanzare o causata anche dalle dalle macchie di questa malattia che colpirà la pelle quindi la pelle verrà colpita in ambo due i casi sia senza la puntura della zanzara o attraverso la puntura della zanzara e quindi questa queste problematiche a livello cutaneo vanno combattute con questo odio abbiamo anche visto nello scorso video quali sono le altre tipi di piante gli altri tipi di pianti che vanno utilizzate contro questa malattia oggi ci concentriamo soltanto sull'olio di san michel arcangelo ci spostiamo ora su amazon per andare a vedere quali sono gli oli che dobbiamo mettere nel carrello eccoci trovati su amazon e avevo già trovato questo olio essenziale del geranio e quindi quello che dobbiamo fare e andrà a fare ad aggiungere al carrello ovviamente li possiamo trovare anche a molto meno in questo caso abbiamo 118 ml che sono una quantità molto alta e possiamo preparare più composti da poter poi regalare alle persone a noi care ai nostri amici ai nostri parenti in modo tale che l'acquisto che oggi faremo possa essere poi un'azione di bene che non è soltanto per noi ma anche per le persone intorno a noi quindi quello che dobbiamo fare è acquistare l'olio di geranio poi in questa pagina sempre dopo che avremo cliccato aggiungi al carrello possiamo ritornare in questa pagina e troviamo anche quello di lavanda in questo modo avremo i due oli essenziali che dovremmo poi aggiungere all'olio di cocco quindi andiamo qua e scriviamo olio di cocco ecco che abbiamo trovato l'olio di cocco questo è un litro e ovviamente possiamo acquistare anche la confezione da due da tre da sei però ai fini della preparazione dell'olio di san michele arcangelo l'olio di cocco da un litro va anche bene poi nella preparazione c'è scritto che dobbiamo prendere mezzo litro di olio di cocco e metterci 100 gocce di lavanda di olio essenziale e 100 gocce di geranio di olio essenziale in questo modo il composto andrà girato e versato dentro dei flaconcini di colore scuro quindi acquistando già anche quello da un litro va benissimo perché in questo modo poi i flaconcini che possiamo preparare sono parecchi ovviamente qui andiamo a cercare i flaconcini flaconi olio per olio essenziale e quindi abbiamo trovato anche i flaconi questo è un esempio poi potrete fare le vostre relative ricerche per trovare i migliori prezzi io di queste di queste di queste ricerche che stiamo facendo non vi lascio i link in descrizione perché questo è soltanto un video informativo per farvi comprendere quanto comunque è facile creare l'olio di san michele di san michele arcangelo e poi abbiamo questi flaconcini come abbiamo letto che sono da sono da 10 ml quindi il composto che prepareremo già da mezzo litro di olio di cocco è moltissimo e possiamo ricaricare la maggior parte di questi flaconcini che dobbiamo poi mettere in luoghi dove non c'è la luce del sole ovviamente luoghi freschi perché sono flaconcini scuri a noi interessano interessano questo tipo di flaconcini poi se troviamo di flaconcini ancora più scuri è ancora meglio l'ingrediente fondamentale che non deve mai mancare è la fede quindi il cielo ci dona attraverso queste rivelazioni la possibilità di comprendere l'importanza del momento attuale che stiamo vivendo e se vogliamo anche noi preparare l'olio di san michele arcangelo non è difficile e una volta che abbiamo preparato questi flaconcini dobbiamo andare necessariamente dal sacerdote farli benedire poi andiamo a messa ci confessiamo andiamo a messa e offriamo a gesù e alla madonna a san michele arcangelo questi questi preparati che abbiamo preparato attraverso le rivelazioni di luce di maria attraverso le piante medicinali e chiedere al cielo di benedirli dopo che il sacerdote li ha benedetti in questo modo la nostra fede sarà l'ultimo ingrediente che verrà aggiunto attraverso le benedizioni di gesù e eucalistia a questi odi che ci aiuteranno nei momenti gravi della malattia che si diffonderà e questi flaconcini se ne avremo acquistati abbastanza aiuteranno anche le persone intorno a noi con le informazioni che si spera che tutti noi abbiamo portata di mano attraverso questi libri ovviamente questo libro lo troverete in descrizione io vi abbraccio e vi porto nelle mie preghiere siano dato gesù cristo